Giovanotti, intervengo per dire una cosa, visto che continuate a parlare, il mio intervento in dissenso è per sostenere il senatore Mineo che dai suoi compagni di partito ha avuto un attacco violento. E per dire una semplice cosa, io mi asterrò su questo voto, ricorderò al presidente Chiti che probabilmente sarà nella partita per avere un posto da ministro magari agli affari regionali e alla collega Puppato che non sa che motivazioni abbiamo noi. Dico solo una cosa, si affretti collega Puppato perché come ha detto un noto collega i posti e il governo ormai sono solo in piedi.